Durante i festeggiamenti per il Carnevale avolesi 2020 un ragazzo è stato fermato dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa perché è sorpreso a saltare sulle auto in sosta emulando alcuni video che girano in questi giorni sul web. Si tratta di una volese da poco maggiorenne che è mascherato e emotivamente trascinato dai festeggiamenti del Carnevale ha deciso di imitare una malsana moda del momento che vede i ragazzini da ogni parte d'Italia saltare follemente sulle macchine e sui tetti provocando danni alla carrozzeria e rischiando per la propria incolumità. Proprio in quel momento ad assistere all'esibizione si è trovato un militare delle Fiamme Gialle che sebbene libero dal servizio stava facendo rientro a casa insieme alla sua famiglia avendo notato l'incosciente gesto del giovane ha iniziato a inseguirlo finché non è riuscito a fermarlo definitivamente non prima però che il ragazzo avesse danneggiato la sua ultima autovettura una macchina della Polizia Municipale del Comune di Avola impiegata nel servizio di viabilità in occasione della sfilata dei carri. La acrobata è stata così condotta al commissariato di polizia dove si è proceduto alla sua identificazione e alla denuncia a piede libero nella sua corsa ha danneggiato qualcosa come quattro veicoli. La pratica descritta in voga tra i giovani di oggi è ripresa da diversi social network che configura il reato di danneggiamento per il quale rischia adesso il ragazzo la reclusione fino a cinque anni. I proprietari dei mezzi che sono stati danneggiati potranno ora dire le vie legali e chiedere il risarcimento dei danni subiti.